Francona, Leusini, adorata! L'avriamo l'app di Storie Maledette? Sono le Storie Maledette in anteprima, solo per noi! Oggi a Storie Maledette ci occuperemo di un caso atroce, feroce, truce e altri aggettivi che grondano sci. È la storia di un uomo assetato di sangue e sesso. Sesso e sangue, sangue e sesso, sesso e sangue e sesso. Nei miei programmi, famo 50-50, visto che tirano entrambi, che è una meraviglia. Un individuo molto astuto, quello di cui ci occuperemo stasera, come si vince dalla sua espressione sagace. Ecco, è Matteo Renzi. Non lo neghi, è agli atti, è nel mio faldone, no? Lei, Matteo Renzi, è accusato di un crimine atroce. No, beh, lei in cinque minuti ha fatto una sintesi di una complicata spy story che sono Boy Scout. Eh già, Boy Scout, beh sì, in effetti, diciamo la verità, ce lo ricordiamo con quei pantaloncini corti che affaticano, contenevano i suoi lombi frementi. Fin da allora, diciamo la verità, si intuiva la sua indole esecrabile e scellerata. Non stupisce che oggi Matteo Renzi si sia accanito su questa povera vittima di cui non possiamo dire il nome, ma di cui riveleremo soltanto le iniziali. P.D. Lei ne ha abusato, senatore Renzi, impiegando innumerevoli, sciagurati strumenti di piacere e soprattutto dolore. Pure una roncola ha usato. Perché? È una cosa bellissima, affascinante da emozioni. E poi, ci dica, che cos'altro l'ha utilizzato su quel corpo sventurato? Lo dica, lo dica. Il cuneo fiscale. Eh, quanta malvagità. Senatore Renzi, lei ha dichiarato di avere a cuore sto P.D., no? Poi però lo ha brutalizzato e ogni giorno ricatta questo governo nelle maniere più mirabolanti, più turpi. Governo che peraltro lei stesso ha favorito con ardore, no? Diciamo la verità. Ma che razza di comportamento è? Schizofrenia. Eh beh, no, senatore Renzi, non creda di potersi appellare a questo punto come attenuante all'infermità mentale. Perché qui è tutto scritto nel mio faldone e agli atti. C'è una precisa e spietata strategia. Lei prima ha illuso l'infelice creatura con promesse mirabolanti. E poi è inferito sul suo corpo elettorale, per la verità, già abbastanza malconcio. E poi che fa? Che fa? Lo abbandona tra le macerie in Umbria e resta lì a guardare coi resti maciullati, mangiando popcorn. Perché questa posizione così innaturale? Ce lo spieghi, senatore Renzi? Io mi trovo d'incanto. Ma tutto questo non le basta, eh no? Ancora oggi lei si accanisce su questo sciagurato PD, nonostante sia praticamente in decomposizione, per ottenere chissà quali scellerati vantaggi. Dica la verità, lei prova un necrofilo godimento, nel tormentarne le piaghe, non è vero? Sì, ho un po' rinunciato a questa gara ad essere simpatica, ma tutte le volte le dico qualcosa. Ma che cosa fa? Ci dica che cosa fa le sue vittime per ridurle in questo modo. Io mi metto a cantare, faccio delle proposte un po' ardite. Insomma, su un certo conte Giuseppi, lei si è messo pure a sperimentare delle pratiche sadiche, no? Lei ha detto che lo vuole rosolare a fuoco lento. Questo me lo concederà. Insomma, senatore Renzi, lei si è buttato su una certa Italia viva. Beh, viva per l'eruità, è ridotta piuttosto male, no? Ma a lei ormai, diciamo la verità, vanno bene tutti, senatore Renzi, eh? Basta che respirino, no? Volentieri. Niente, in tanti efferati casi in cui mi sono imbattuta, questo direi che è senz'altro quello più senza speranza, che manco l'indo e rosa, diciamo la verità, irredimibile. Beh, ma questa è un'altra storia maledetta. Grazie! 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 Grazie!